E questo è il video che continua dove prenderemo per il culo listen Eeeeh E dove c'è Davide Zu E spaito Mordog? No Lui è Mordog Abbiamo deciso di trovare qualcuno che non mentiva sulla descrizione Quindi ho trovato qualcuno che non fa video così non mente Vai 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 Vengiamo subito sul canale dai su subito Va bene Ciao a tutti ragazzi di Sonata 6 E sono qui su questo nuovo canale Almeno mettiamo un'immagine che non laggava Scusa un attimo, ma da tanti anima è bello, proprio sta merda Sto scherzando, che a te che vuole fare Favola cagare, stupendo Rivolgo a Mordogh No, non ho più ex Uno strike Ma il problema è che mi hanno banato l'account di Google per Per varie cose, comunque non è importante Mi dice, per aver, del tipo, sono andato contro le loro tali mie condizioni Quali condizioni? È una storia lunga Non è molto probabilmente sia stato grande Un altro, un altro, dai, dai Forza, ingrandisci Perché ti stai già vergognando? Perché devo cancellare sti video Che è successo? Oddio Ciao a tutti ragazzi Cos'è? Però il telefono ho messo in maniera strana Ulizia, è un buce lì Ma se è uno scricciolo Non c'era luce Non c'era niente Scusa Un primo vlog Vieni quel più bello Che è stato, rispetto a quello che ho fatto sul nostro canale Non era proprio, mediamente, un vlog Era più giovanile Un vlog perché lì mi mostrava Non c'era la faccia E guardate Non assomigli a un abbasso Ok? Chi guarda? Perché no, avevo un abbasso Avevo un monitor come questo E io stavo così Quasi giocavo Un giorno Non ho fatto malissimo Un monitor Ripetizione Allora, semplicemente Il turno di Minecraft Non so se Chi se ne frega Se farlo perché Posso suggerire i video io Che mi piace Tanti faccio vedere i video Va bene Vediamo Vediamo 10 domande a un 50 Ma che è? Ma Questo è uno dei sei più vecchi Cos'è sta cosa da Marla? È bellissimo Te lo capisce bellissimo Questa sarebbe la tua intro Era tutta la nostra Il mio nick deriva da un gioco online A un MMORPG In cui tipo Mi chiamavo Non mi assegna E quindi Diciamo Gli amici Perché anche velocemente Mi chiamavano O nessuno Quindi è gli Ulis Ma c'è schifo Nomi in real life Nonato Età 13 Quanti uomini? No 16 15 Compleanno 29 agosto Ma sentire Grazie per la tua password Secondo te Secondo te Secondo te Vabbè A parte comunque La voce di Gabrielli Da piccolo Tipo qualcosa di Wow Ma perché altro Sembra che leggi Sì Chi è Asia? Chi è Asia? Dio Chi è Asia? Chi è Asia? Penso che diventi singolo No Chi è Asia? Questo video è un video bruttissimo Perché uno non ho la maglia Questo lo conosco Vedete come avere una maglia Lo conosco sto video È il primo video che ho fatto La mia webcam La intro questa qui Mi piaceva È simbolo del mio canale Che carino Ma lo sai che Lui c'era anche nella descrizione La canzone Ciao a tutti ragazzi Io so se ti ho fatto cagare È nudo Perché sì Mi faceva caldo Ma perché non ho preso i goblet strike Non posso lasciare Contenuti troppo visibili Ma devo stare legando Non sto facendo la capa Ma io ho state legando Ma chi se ne sbatte Fa caldo Non me frega nulla Non me frega nulla Almeno io parlavo Non guardavo lì C'è luce della mia stanza Perché è la mia stanza Perché è l'ora Perché c'era un po' Di generalmente C'è la fotocamera C'è la pizza Che niente male Allora Nel caso Come vedete le cuffie Però le potrete levare Ma non ho voglia In ogni caso Voglio pensare Che Vabbè Con l'internet È un senso 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 E tipo Non so come spagnere Questa registrazione Perché tipo Dovrei tenere il tempo Con una mano E spingere il bottone Non ne ha Ma non facevi prima Proprio da qualche parte Al tempo Non esisteva l'editing Per me Era registri Ma non è Editing Che preparassi prima Cioè Basta pure un bicchiere Mezzo un bicchiere Lo poggiare lì Guarda Mi sta affamare In attacchi E io Ce n'è anche uno migliore Ce n'è uno migliore Ce n'è uno migliore Che è migliore Oddio T'hanno cancellato il canale T'hanno cancellato il canale In diretta Questo è un vlog In cui vloggavo bene E HD E HD E HD E si muove Quanto tempo c'hai messo a scaricarlo? Tanto Ti ho fatto caso Che era più corta? Sì Che c'era? Era troppo lunga Quell'altra? Questa era più corta L'avevi accorciata Ciao a tutti ragazzi Ci sono state 6 Benvenuti Ma le muffie Me le dai Sì Ma guarda I capelli lunghi Sì Sì ma Mi hai visto che c'era Molto più mossi Dietro lì Ma tipo la coda di cavallo Esatto Esatto Ma era piccolino Ma vedo che non si può fare Questo video Perché è uscito Due anni fa Credo Sì due anni fa È abbastanza normale Che mi vedate così Allora nella mia stanza C'è tanta luce Quindi può darsi che Ripeto E poi era ora Io ho un vloggato Tutto nero Non si vedeva Rivediamo ancora la mia faccia Ti apri il culo Ma cosa vuoi eh? Almeno io guardavo Cosa? Lo schermo Cazzo vuol dire? C'è il cellulare in mano Se non lo guardavi E riscevo Almeno la mia immagine E' la ferma Vediamo qualche video Di gameplay Io non faccio Stato un vlog Cioè vediamo Che video Capito Oh c'è ClashonClan Allora Il canale L'edizione del 2016 Vai vai Dovina Allora Ciao Io sono Ulisse E questo è il mio Canale Questo è il mio Canale Non l'ho messo più Questo Stato un gioco Un breve guida Per vedere Un po' Ma non solo Il canale infatti E' anche pieno di video Su giochi in handy Questi due generi Non ti taggono Però Che cosa? Che è successo? E' video a tema geek Ma se questo non ti cominciasse ancora Ci sono anche video riguardanti anime e manga Serie su giochi di naruto E molto altro ancora Quindi Se è curioso di vedere altri contenuti Se si mi raccomando Di iscrivetevi Cos'era? Cos'era quel taglio? Un video sul mio canale Un taglio L'audio ha cambiato Mi tagli le lettere Rimane La prima parte Per favore Ciao Io sono Ulisse E questo è il mio Canale E questo è il mio Canale Ciao Io sono Ulisse E questo è il mio Canale C'è lui qui è direttato Un'ora di coreano-arabo In due nanosecondi Ehi Ulisse Vedi anche i rose Rosi i tuori Vedi i tuori Vedi i tuori Vedi i tuori Vedi andando Lo vendi anche i bubba Sarebbe da mettere il loop Basta Dopo questo Possiamo pure Per mangiare Nooo Metti il primo No ma dobbiamo creare la differenza Io ero già più esperto Questa è la solita intro Questa è la conoscenza di Ma di andare a puttanea Non male che era bimbra Come si vedeva anche male Perché voi ci stavano Un modo brutto Ma rimettela Ma è bella sta La solita Mi parla Grazie che ce l'hai La rimanata di Ciao di rimanata di Ok ragazzi Prima di iniziare il video Non me ne frega un cazzo Ok audio No 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 Aspetta Dovete mettere all'inizio In secondo Ma che cosa è accaduto Metti in secondo All'inizio Inizio Ok ragazzi Oh Ma perché nevica in camera tua E' polvere Non è neve Anzi perché altro No Non è neve neve polvere E' il fatto che Puntando la lampa In faccia Prima di iniziare il video Voglio dirvi Sono in Wisp Che questa è una custom map Che ho voluto portare Per istanzialmente Da un bel po' Emanca alla seconda Aspetta Rimanda leggermente indietro No 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 Rimanda leggermente indietro Perché che ho fatto Quindi volevo portare Una serie vanilla Con la serie vanilla Sul canale Tranne la serie di minigame Che però Nemmeno vanilla Perché bucket Quindi volevo portare Una serie vanilla Con la serie vanilla Sul canale Vanilla 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 Vabbè Ok abbiamo Facciamo l'introduzione Ho detto vanilla E' la stessima della 2 E' la stessima della 2 E' la stessima della 2 Dovevo fare il canale Giù che non è collegata Allora al tempo Non sapevo del fatto Che se punti la luce Da una parte Esiste l'ombra Poi è un panato E' continuo a via per culo A noi I video adesso Sono migliori Senti Tu ti sei fatto Due canali E' meno di fatti questo Non vale Non vale Almeno la qualità Del video era bello Vabbè Puoi mettere Almeno quello Che cazzo Tu mi disse Vuol di una cosa Gsmash e One Non ti tagli Niente e niente E Poco diretto Era una custom map L'inizio di una custom map Come roversus zombie Guarda quando minecraft Potevi spammare Eh Sì Ma questo era 164 Era Sicurati Questa mappa Si è fatta a rompere la spada Con due colpi Eh perché era di legno Adesso come ultimo video Lo devi fare Che cazzo è Asia Che lo fai vedere Asi Screamer Dai Ho fatto il capture Sì C'è Marco C'è Marchetto Un lato Si C'è Caricato già In canna Secondo Fai Di spazio Sì Canta Allora Sarà un pezzo Stucca Va bene Un pezzo Oh ah La qualità Che si dice Non cancellate Chi è Asia Era tipo una ragazza Che conoscevo Un sacco Il tempo fa No Ma no Ma se Ma se No È un anno Dice un po' Era veramente canterina Ok Ok Sto video È degenerato È iniziato Bene Quindi domani Sei single Dopo che esce Questo video È sicuramente Troppo adesso Ciao Questa è Raulisse E benvenuti Sul suo canale Iscrivetevi Piatelo per il culo Nei commenti Perché questo è Iscrivetevi al canale Al canale Ovviamente E lui vi promette Che ogni 5 like Fa un kebab E magari ci ha mancato Addio God C'è 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 Deve Grazie a tutti.